Salve a tutti, ecco appena finito di assemblare un clone Jadis JP200, un preamplificatore valvolare e completamente dual mono, vedete due trasformatori primari, due induttanze, due trasformatori elettorioidali e così via, qui vedete un semplice alimentatore 12V, qui una commutazione e niente. Poi questo qui è un circuito stand-by che utilizza sempre anche su altri progetti, la commutazione e adesso ascoltiamo un po' come il suono. I wish you lived 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 I wish you lived